Il rimbalzo dei mercati che è partito ad aprile 2020 a seguito del crollo di marzo mette in crisi molte persone perché molte persone hanno venduto a marzo hanno venduto quando hanno visto i mercati crollare e adesso che abbiamo quasi recuperato i massimi di 2020 manca poco le persone sono divorate dal rimorso cosa faccio ormai sono fuori dal mercato cosa faccio aspetto che torni giù oppure entro adesso insomma una situazione non semplice in questo video ti do cinque regole per gestire la perdita iniziamo riepiloghiamo cosa è successo nei mercati da inizio anno gennaio è stato un buon mese febbraio si è confermato un buon mese abbiamo toccato il picco attorno al 20 di febbraio poi è successo di tutto il peggiore crollo uno dei peggiori crolli della storia dei mercati finanziari è stato definito uno dei secondi bear market in termini di velocità della storia di sempre in altri termini i mercati sono scesi con una tale velocità che ha avuto pochissimi precedenti nella storia a mia memoria direi solo uno e poi un rimbalzo velocissimo ad aprile maggio giugno i mercati hanno recuperato tantissimo il nasdaq ha non solo recuperato ma anche superato i massimi di febbraio 2020 l'S&P 500 il principale mercato americano si è riportato appena sotto i massimi di febbraio 2020 insomma questo è stato un rimbalzo imprevedibile inaspettato senza molti precedenti in era di pandemia insomma è difficile trovare storicamente eventi simili in cui uno shock di questo tipo come quello del coronavirus ha generato un crollo nei mercati così forte che poi è stato recuperato così velocemente ho ripassato recentemente la storia dei mercati finanziari andando a cercare eventi simili non ho trovato niente di paragonabile ma ci sta perché lo dico spesso anche in altri video la storia non si ripete sempre in modo uguale ma molto spesso fa rima questa è una famosa frase di Mark Twain saggista americano che ci fa capire come sì molto spesso certi fenomeni nei mercati piuttosto che a livello politico sociale sono ripetitivi si ripetono ma mai in modo esattamente identico quindi è difficile trovare delle analogie e dire bene questo evento è esattamente identico a quest'altro evento degli anni 80 a volte è difficile trovare analogie così precise ma bisogna trovare analogie un po più ampio che di fenomeni un po meno puntuali ok questo è un po difficile da valutare se non hai tutta questa competenza nella storia dei mercati finanziari ma non è neanche detto che tu debba farlo ok però il messaggio è questo ci sono degli eventi che possono essere in qualche modo prevedibili nel futuro ma non sono comunque prevedibili con la facilità con cui possiamo andare a ripescare informazioni dal passato perché il passato è passato il futuro per sua definizione è incerto magari può somigliare un pochino al passato ma è comunque incerto detto questo molte persone hanno venduto a marzo ho parlato con diversi amici investitori magari che non sono in questo momento all'interno di percorsi gp invest che in pre dal panico hanno venduto a marzo quando vedevamo quei meno 7 di crollo giornaliero per più giorni di fila perché l'hanno fatto perché fondamentalmente volevano ridurre il dolore della perdita ok vendo porta a casa quello che che ho fatto fino adesso magari ho ancora guadagnato perché avevo investito nel 2016 quindi comunque avevo un buon capital gain un buon guadagno che si era consolidato ho venduto mi sono portato a casa un po di guadagno fine del dolore di rimanere a mercato però poi cosa è successo è successo che c'è stato questo rimbalzo e adesso inizia un'altra tipologia di dolore cioè io sono fuori dal mercato quando tutti gli altri sono a mercato quindi prima era un dolore legato alla devo evitare di continuare a perdere vedere il mio capitale che si che diminuisce ok il controvalore che diminuisce adesso il dolore diverso perché vedo gli altri che guadagnano e io i soldi sul conto corrente i mercati finanziari crescono e io non sono a mercato questo fa altrettanto male nella mente dell'investitore entriamo nel mondo della finanza comportamentale delle emozioni che vive l'investitore quando quando investe il proprio denaro sai quanto è importante sono tematiche che riporto spesso su questo canale adesso ci concentriamo su questa situazione cioè cosa fare adesso io ho identificato cinque regole importantissime non solo per questo evento e per risolvere questa situazione che può essere complessa per alcuni ma cinque regole di buon senso da utilizzare in qualunque momento ci sia ad affrontare una perdita ok quindi magari ci sarà un altro storno tra due mesi e questo video sarà comunque valido e importante per alcune persone perché potranno andarla a ripescare e riprendere in considerazione queste cinque regole prima regola analizza la situazione dovresti fare un'analisi della tua situazione personale o meglio delle ragioni che ti hanno spinto a vendere a marzo ripeto stiamo contestualizzando questo esempio nel caso di quest'ultimo storno e questo rimbalzo improvviso ma queste regole valgono per qualunque situazione in cui ti sei trovato a vendere magari spinto dall'emotività analizza la situazione perché hai venduto cosa ti ha spinto quali sono i ragionamenti che hai fatto quali sono le emozioni che hai provato in quel momento se fai questo esercizio il mio suggerimento è di scriverti queste risposte fare questo brainstorming questo ragionamento a voce alta magari con il tuo compagno la tua compagna chi ha condiviso con te questa decisione scrivi le risposte su un foglio di carta è molto utile per migliorare certi comportamenti al di là del mondo degli investimenti in qualunque campo scrivere le cose perché il processo di scrittura mette non sono un esperto di mente da questo punto di vista ma ho letto che il processo di scrittura ci porta a ragionare sulle cose in un modo diverso più approfondito quindi il mio suggerimento è in una fase di analisi come questo scrivi tutto e questo è il primo punto analizza la situazione piuttosto semplice adesso però è importante chiedersi e passiamo al punto numero due come avrei dovuto agire o in altre parole quale sarebbe stato un giusto processo decisionale il giusto modo di ragionare il giusto modo di affrontare le cose per non trovarmi adesso in questa situazione di rimorso perché perché tutti sono stanno guadagnando e io ho venduto in preda alle emotività cosa avrei dovuto fare di diverso quale elemento che mi sono dimenticato a marzo avrei dovuto tenere comunque in considerazione insomma dal punto di vista puramente teorico come avrei dovuto fare le cose meglio a suo tempo per non essere vittima oggi di questo problema anche per queste domande se vuoi metti in pausa questo video e dai una risposta su un foglio di carta ti sarà utilissimo i primi due punti erano facili adesso arriviamo a quelli più difficili da accettare punto numero 3 prenditi la responsabilità delle tue decisioni lo so è brutale ma inutile che ci giriamo attorno se hai perso soldi è solo per colpa tua c'è nessun altro è responsabile del tuo denaro a parte te se hai scelto un consulente finanziario che in quel momento non ti ha aiutato a tenere la barra dritta a rimanere razionale lucido in quei momenti anche se la responsabilità di aver scelto quel consulente finanziario è comunque tua io sono comunque responsabile per i consulenti che scelgo nel mio team ok io sono responsabile per i miei dipendenti perché li ho scelti io quindi se non li ho scelti bene ti faccio un esempio nel mio caso imprenditoriale anche se hanno sbagliato loro la responsabilità è mia non mi fa molto piacere a volte quando vedo quando litigo con qualcuno pensare che sto collaborando con questa persona perché comunque l'ho scelta io ok però è giusto e da persone mature ragionare così dobbiamo prenderci la responsabilità delle nostre scelte inclusi i nostri errori chiarito quindi che la responsabilità è tua devi approfondire il tema perché molto probabilmente è emerso un problema grave e questo problema grave non è necessariamente associato solo a questo evento è un problema grave che ha mostrato delle lacune nella tua gestione delle cose in questo caso del denaro o nella scelta dei fornitori o dei consulenti che ti aiutano e quindi è un problema che potenzialmente se non risolto potrebbe portarti a commettere nuovamente questo errore quando si presenterà una situazione simile ma non identica a quella che abbiamo visto a marzo ok il problema c'è è emerso adesso dobbiamo risolverlo in modo strutturale non possiamo metterci semplicemente una pezza e dire sì la prossima volta andrà in modo uguale direi fosse einstein a dire che è da pazzi agire nello stesso modo e aspettarsi risultati diversi ok se commetti un errore ci sta tutti noi commettiamo errori nessuna esente anche quei venditori di fumo guru finanziari che puoi trovare là fuori tutti commettono errori c'è semplicemente chi ha coraggio di dirlo e chi no anche warren buffett gli investitori più ammirati al mondo commettono errori semplicemente ne commettono molti meno invece di quelle che sono le decisioni corrette e giuste per il loro futuro quello dei loro investitori l'aspetto più importante non commettere più questo errore nel futuro ne commetteremo altri benissimo voglio avere una collezione di errori ma quello specifico errore non devo commetterlo più e quindi capiamo immediatamente che il problema lo si risolve o da solo studi acquisisci queste competenze oppure l'alternativa ti fai aiutare da qualcuno che ti permetta di non commettere più questo errore cambiando quindi le premesse che ti hanno portato a commettere quell'errore quindi se le premesse erano deboli e non risolviamo non facciamo niente verosimilmente ricommetteremo lo stesso errore nel futuro quindi a questo punto devi accettare il fatto che devi migliorare da qualche punto di vista nella gestione delle tue finanze lo puoi fare da solo o devi rivolgerti a qualcuno che ti può aiutare per farlo più velocemente ad esempio in gp invest abbiamo proprio questa finalità aiutarti a non commettere più questi errori in futuro punto numero 4 dobbiamo creare delle regole se abbiamo capito che abbiamo agito di impulso a marzo vendendo in modo scomposto sconclusionato bene adesso se vogliamo evitare di commettere questo errore in futuro dobbiamo darci delle regole all'interno dei nostri percorsi diamo idee di questo tipo spunti di questo tipo regole per cercare di non essere vittima della propria emotività ma al di là di gp invest ripeto o fai in autonomia o ti fai aiutare ma devi definire delle regole warren buffett dice che per investire in modo efficace nei mercati non dobbiamo essere più intelligenti della media dobbiamo essere semplicemente più diligenti questa è la parola chiave cioè dobbiamo sapere poche cose effettivamente corrette e dobbiamo rispettarle essere diligenti significa questo significa rispettare delle regole predefinite che prima le definiamo perché abbiamo capito qual è l'errore che commettiamo se non definiamo delle regole poi le ce le scriviamo su un foglio di carta vedi che è importante avere un foglio di carta dove segnarsi tutte queste cose il diario dell'investitore potremmo chiamarle e poi dobbiamo rispettarle perché se facciamo tutto questo processo e poi non rispettiamo quell'impegno che ci siamo presi con noi stessi scritto su un foglio di carta è un grosso problema insomma questa è l'anticamera del disastro finanziario approfonditi questi quattro punti l'ultimo punto è il più operativo ok cioè dobbiamo correggere l'errore che abbiamo commesso dal punto di vista dei mercati cioè tornare a mercato ma è fondamentale fare i primi quattro passaggi che ti ho descritto cioè appurare l'errore darsi delle regole rispettare queste regole per non commettere più l'errore ho dimenticato potrebbe esserci anche una sesta regola che dal momento che io avevo interrotto un progetto di investimento che era finalizzato a raggiungere determinati obiettivi finanziari che avevo in mente ok sarebbe importante in questa fase riverificare gli obiettivi cioè ok abbiamo capito che correggerò l'errore tornando a mercato insomma farò un control z del mio errore cioè farò proprio annulla errore torna mercato chiaramente mi porterò una perdita associata a questo errore perché mi sono perso il guadagno di questi mesi ma niente il futuro è imprevedibile magari i mercati potrebbero continuare a crescere per altri 20 anni chi può saperlo nessuno può saperlo lo dico un video sì un video no quindi resettiamo l'errore torniamo a mercato e accettiamo come al solito la perdita il punto però è adesso che comunque sono costretto a causa di questo errore a fare un'analisi della situazione è riverificare le mie condizioni di investimento perché sto investendo per quali obiettivi finanziari ho un piano finanziario per raggiungere questi obiettivi quali strumenti ho deciso di utilizzare per raggiungere questo obiettivo finanziario un fondo un etf un'azione bene questa può essere un'occasione per rientrare a mercato ma magari con strumenti diversi più efficaci magari che costano meno magari prima ero eccessivamente esposto in termini di rischio adesso ripeto o autonomamente o facendoti aiutare da ad esempio gp invest capisco cosa correggere della mia gestione finanziaria magari prima avevo tre azioni nel mio portafoglio troppe le ho scelte male in modo scomposto che magari utilizzo un fondo azionario adesso per investire quindi sono sempre investiti in azioni ma in modo diverso in modo più adatto a quello che è la mia vera natura come investitore insomma nel fare un undo un control z della mia operazione di vendita apporto un miglioramento sarebbe comunque un'esperienza che si chiude positivamente ok avrai perso del potenziale godagno se investi e risparmi per un periodo di 20 30 anni è un errore assolutamente comprensibile e che non impatta il raggiungimento dei tuoi risultati di lungo periodo ma almeno da questa esperienza possiamo uscirne con un miglioramento ho commesso un errore l'ho sistemato e ho anche migliorato un pochino la situazione bene non lo commetterò più in futuro queste sono le cinque regole fondamentali buon senso lo sappiamo niente di fantascientifico ma il buon senso quando ci sono di mezzo i soldi la psicologia umana l'emotività va a farsi friggere molto velocemente se non fosse così se fosse vero il contrario che basta seguire le regole di buon senso allora i mercati sarebbero efficienti tutti saremmo ricchi non esisterebbe gente che perde soldi dal momento che i mercati finanziari stanno crescendo in modo costante da quando esistono ci sono crolli ci sono bolle speculative ma i mercati finanziari se studi i rendimenti di lungo periodo crescono sempre il mercato azionario cresce sempre quindi dalla teoria alla pratica c'è di mezzo un mondo ok teoricamente facile praticamente un po più difficile ma visto che con i nostri soldi investiamo nella pratica e non con i soldini del monopoli dobbiamo essere solidi ed efficaci dal punto di vista pratico e queste regole sono di buon senso ma estremamente pratiche ti ho detto cose da fare pratiche scrivere darti delle regole condividerle con il tuo compagno la tua compagna in modo da avere magari una controparte che ti aiuti a non commettere più errori in preda all'istinto a un'emotività fuori controllo come marzo quindi sono idee pratiche che puoi applicare da domani quindi se sei tra le persone che hanno venduto a marzo e stanno vivendo questa situazione di rimorso perché vedono i mercati che crescono e loro non sono più a mercato o se hai altre strategie per gestire la perdita fammelo sapere nei commenti mi interessa sapere come gestisci queste situazioni di tensione emotiva di gestione della tua emotività scrivimelo nei commenti con questo è tutto ci vediamo in un altro video vuoi sapere come abbiamo aiutato migliaia di persone a diventare maggiormente consapevoli nella gestione delle proprie finanze dei propri investimenti se sì ti invitiamo ad iscriverti ad un corso intitolato divento un investitore consapevole primo è gratis secondo è stato creato nel tuo esclusivo interesse terzo ti insegnerà dei concetti di finanza personale di gestione del tuo investimento veramente fondamentali concetti che avrebbero dovuto insegnarci a scuola ma che purtroppo nessuno ci ha mai spiegato puoi accedere al corso in modo totalmente gratuito alla pagina www.gpinvest.it slash benvenuto se questo video ti è piaciuto clicca mi piace e ci vediamo nel prossimo video www.gpinvest.it